ciao a tutti da me e da rosettino molto bene allora oggi siamo qui per scoprire queste creazioni e ho portato qualche altro stampino che non usavo da un po tipo il guffino il buddha le caramelle e questo gattino penso di non averlo ancora utilizzato in questi video molto molto bene quindi 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 guardate che bei colori che mi sono usciti lo dico perché sembrano molto carini non voglio riscoprirli ma voglio partire subito dalle caramelle praticamente ho preparato questi colori per fare le caramelle e poi li ho trasformati mettendoci un po di glitter un po di perlato per fare gli altri però questi volevo fare tipo effetto caramella vediamo sì guardate che carino sì no adesso fa con tubo dai 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 acqua messo il verde e il fucsia c'è un pelaccio guardate che carino poi vediamo il prossimo giallo e fucsia dovrebbe aver dato anche un po di arancio vedo sì ma che carino praticamente questi stampi questo stampo l'ho fatto io prendendo appunto delle caramelle vere e poi ho fatto lo stampo su queste caramelle vere ne ho prese tre in questo caso nella busta e ho fatto l'ho messo in posizioni diverse guardate che palatanetta qui che bello adesso ne voglio fare milioni di questi cosi praticamente come dicevo ho preso le caramelle e ci ho fatto lo stampo non è la prima volta che faccio una cosa del genere molto molto bene poi vediamo il sederino allora diamo fuoco vediamo un po questo sborda abbastanza cercato continuamente di pulirlo ma è storto vediamo oh che bello questo colore qui che ho messo quasi da bertutto perché è uscito un colore che mi piace tantissimo non vedo l'ora di vederlo magari un po più da solo o da solo no da solo non l'ho messo però è bellissimo questo azzurrino perlato che sciccheri qua ho messo un po di colore mi piace molto questa sfumatura qui molto molto carino poi vediamo stitch ok piano perché questo stampo è un po così molto molto carino niente di eccezionale c'è niente di come si dice l'effetto niente di particolare premuto molto molto carino mi piacciono questi stacchi e poi questa parte qua molto molto carino essendo anche molto opaco luccica lo stesso poi il buddha eccolo qui ho messo il fucsia e poi in mezzo il bianco allora che bello c'è tutta la sfumatorina qui in mezzo qua c'è un pezzo di perlatino che non si è sciolto ma devo dire che è molto molto carino sì proprio qua mi piace molto la parte dove si vede un po il bianco molto molto peccato per questa striscia qua ma ha una mollettina in testa cosa vi devo dire cosa vi devo dire poi guardiamo il gatto qua ha messo il verde e il fucsia vediamo molto molto carino anche questo essendo opaco però mi sembra molto molto luccicoso lo stesso anche questo un anello molto molto come si dice normale ok molto carino molto carino poi ho portato le cacchettine ma le guardiamo dopo voglio vedere il gatto allora ho messo il giallo il verde per quel colore molto molto carino questa è la prima volta che uso il gatto dopo che si è rotto il baffo vedete qui che manca un baffino vediamo un po com'è cerchiamo di non farne partire altri però di baffi ok vedete qua allora parte sto robo ci sono dei segni del perlato che non si è che non l'ho mescolato bene a quanto pare però è molto molto carino comunque il baffo leggermente c'è ma proprio leggermente ovviamente non c'è il buco perché non non c'è la possibilità di farlo ma devo dire che anche questo abbinamento di colori mi piace molto 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 carino poi 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 vediamo l'orsetto che non mi ricordo sono messo due tre colori il fucsia l'azzurro e forse anche il bianco non lo so guardate è proprio andato questo stampo porca la miseria si possono fare queste cose no questo orsetto mi piaceva troppo ma a quanto pare completamente andato completamente andato però vediamo come ha fatto questa creazione l'ha fatta bellissima mi piace molto però se vedete è tutto imbarcato andato no questo non mi conviene usare guardate mi sa chi mi ha proprio abbandonato devo ritrovarlo perché è uno dei miei stampi preferiti dopo aver trovato il modo di non metterci un casino di resina peccato però devo dire che è uscito molto molto bello l'ultima creazione l'ha fatta molto molto bella poi guardiamo una cacchina dai guardiamone una un po di giallo un po di verde un po di fucsia che sembra essere diventato rosso qui vediamo ok praticamente ormai queste sono diventate opache quindi l'effetto è un po più diverso da quelle lucide ovviamente ma devo dire che è molto molto carina da dietro sembrava un po più un po che dovesse venire chissà che cosa invece davanti un po più normalina un po più normalina poi vediamo l'altra vediamo l'altra se ci darà grandi emozioni oppure no adesso scopriamo questo gufino questo ha un casino di dettagli vedete tutti questi cosini qua sono dettagli adesso vi faccio vedere non so se ve lo ricordate eccolo qua guardate che carino e vediamo il gufino allora molto molto bello il giallo e il verde si sono mischiati molto molto bene qua c'è qualcosa che non doveva esserci oh si è tolto meno male c'è ancora qualche grumino di perlato ma chi se ne frega vediamo la situazione bolle molto molto bene molto molto carino questo gufino molto sciccoso mi piace molto come è venuta vedete tutta la sfumatura qui che scicchi che scicchi che scicchi poi allora direi di vedere qualche orsettino vediamo questo comunque si vede che questi orsetti anche l'altro l'ho usati poco è come lo cioè gli stampi sono tipo tutti partiti quelli degli orsetti porcaccia la miseria senti che toc toc guardate partito anche questo e oggi siamo a due stampi partiti salutiamo anche questo stampo porca la miseria qua poi io metto a fuoco e tu mi levi la messa a fuoco non ci si comporta così allora qualche cavolo di color ci ho messo penso il giallo e il fucsia mi turba un sacco questa roba dello stampo però io che ci devo fare devo dire che è venuto molto molto carino mi piace molto l'effetto qui dove cambia un po il colore ed è molto molto carino come l'ultima creazione anche di questo stampo è uscita molto molto bene ora vediamo se questo orsetto resiste o anche lui si dai questo per favore ok questo ce l'abbiamo fatta super fluo questo è giallo con un po di glitterini verdi ok non so come è successa questa cosa o forse sì a forse a un certo punto ho mischiato qualcosa non lo so non lo so molto molto carino poi quindi rimane la stella l'unicorno il cuore e la cacchina vediamo la stellina che dovrebbe essere tutta verde se non sbaglio vediamo tic 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 fatta così vediamola che bella ma che bella meravigliosa guardate che bel effetto tutti questi perché ho messo nel verde come si dice dei glitter non tutti uguali quindi di diverso tipo e vedete che si vedono che sono di diverso colore che bella questa stellina molto molto bella ora vediamo l'unicorno questo pelaccio non se ne vuole andare vedete vediamo oh che bello questo è stupendo guardate che parte tutto azzurro poi qua diventa tipo lilla e poi finisce sul fucsia dietro sembrava più staccato era un po preoccupata però anche qua se vedete azzurro lilla e un po più sul fucsino molto carino molto molto carino devo stare un po più attenta con i grumini del perlato ma come li lasciano i pigmenti in polvere anche questi sono in polvere e ovviamente ho lasciato tutti i grumini molto molto bene adesso il cuore e lasciamo la cacchietta per ultima che se non sbaglio tipo l'ho tipo fatto uguali vediamo tic ho scelto questo qua con tutta la parte allora ho messo a quanto pari il bianco l'azzurro e il fucsia e se si vede da davanti qua c'è tutto e qua si vede un po di fucsia se si guarda di qua il fucsia non si vede ma c'è il bianco e se si guarda di qua si vede un po di fucsia e dietro anche questo cuore è veramente incredibile wow 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 ora vediamo la cacchina anche questo ormai questo stampo è diventato super opaco almeno ha le cacchette sia opache che lucide molto bene vediamo ok questa è praticamente azzurra quanto pare anche un po di bianco ok stessa aiuto quasi stessa roba dal cuore solo che qua forse il fucsia si vede di più ma pensate però devo dire che è bellissimo qualche glitterino anche che qua non si è visto molto molto bene devo dire che sono molto 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 soddisfatta di come sono venute queste creazioni mi dispiace molto che due stampi non hanno finito il loro compito però cosa ci devo fare cosa ci devo fare mi spiace molto pomettino ti piacciono sei soddisfatto pomettino grazie pomettino dimmi quella tua preferita a pomettino piacciono molto le caramelle eccole qua e si e si sono molto venute molto molto carine guarda che sciccheri che sciccheri invece la mia vi dico che mi ha stupito molto la stellina non so perché sì che anche il cuore è bellissimo però questo verde tutti questi glitter mi hanno un po lasciato incredibilmente sorpresa molto molto bene cosa sto combinando non lo so allora mi raccomando vi ricordo instagram e link amazon journal infobox very very well fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita e cosa ne pensate di tutte le creazioni molto molto bene pomettino saluta bravo io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao